L'importante è crederci ed avere coraggio, come quello dimostrato dai promotori del premio internazionale Cattel, le associazioni Ad Maiora e Canon e Inverso con il sostegno del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro ed il patrocinio della provincia di Salerno, del comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni e di Rai Campania. Dopo il successo conseguito nella seconda edizione, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della vita culturale italiana ed un'ottima risposta di pubblico e di critica, prende il via la terza edizione del premio internazionale Cattel. Sul calendario sono già stati segnati i giorni del 7-8 giugno prossimi, un omaggio all'apertura della ricca stagione estiva ed il suggestivo palcoscenico del lungomare Italia di Sapri accoglierà ancora una volta la Kermess. Gli ospiti di quest'anno appartengono all'Olimpo della cultura, volti noti dello spettacolo ed interpreti del nostro tempo come giornalisti, narratori, saggisti e studiosi pronti a condividere le proprie esperienze. Le prime indiscrezioni confermano la presenza di Marisa Laurito e Michele Mirabella, che certamente renderà la manifestazione unica ed irripetibile. L'organizzazione conferma anche per il 2024 la direzione artistica Gino Avetta e la conduzione per la prima serata Renato De Rienzo, Tonia Filomena ed Andrea Iagnello e per il galà previsto per la seconda serata Alessandra Masi e Gino Avetta. Il programma ufficiale arriverà tra una decina di giorni, ma gli obiettivi sono stati già confermati, far diventare la città di Sapri, fulcro del golfo di Policastro, il principale attrattore turistico a sud della provincia di Salerno.